Avvocato, ieri cavalli in carcere per il progetto Amici Dentro, un progetto nato alcuni mesi fa che prevede di portare in carcere cani, conigli e anche cavalli, come è avvenuto ieri? Sì, una giornata ieri da indimenticabili, da un anno siamo in carcere con cani, conigli e cavalli proprio per dare a questi ragazzi che partecipano a questo corso, ci stanno dando veramente tantissimo un modo per approcciarsi all'animale, ma non solo approcciarsi all'animale fino a se stesso ma anche per imparare tantissime cose. Abbiamo portato tre cavalli in carcere dove un cavallo da carrozza, ringrazio Pasquale Campanini e Range Tuoro con Imperio che è stato attaccato a carrozza e quindi sono stati spiegati tutti gli attacchi, la procedura degli attacchi finimenti e tutto il resto. Un altro cavallo con selle inglese e sella americana Alessandro Gendile, Enrico Sgarro e Maria La Cavalla da Cerignola che si sono dedicate, si stanno dedicando tantissimo a questo, portando dei cavalli abbiamo spiegato cos'è la sella inglese, la sella americana, le varie monte abbiamo fatto pulire i cavalli, sellare i cavalli e fare il battesimo della sella in carcere è stata una cosa molto emozionante per tutti. C'era anche un maniscalco? C'era un maniscalco Luigi Mele che ha sbancato perché tutti gli altri, Alessandro con i cavalli sono stati accolti alla grande, però Luigi Mele si è messo ad afferrare, abbiamo portato anche un cavallo da ferrare, quindi senza ferri e lui ha spiegato in modo molto meticoloso e attento il fettone cos'è, lo zoccolo, la cura dello zoccolo, quindi ha afferrato davanti a tutti quanti un cavallo. Diciamo che il nostro obiettivo è quello anche di riproporre l'anno venturo con il maniscalco, un corso di mascalcia e cercare di dare a loro delle opportunità di lavoro, quest'anno noi lo abbiamo già fatto e qualcuno di loro potrebbe avere delle opportunità di lavoro.